La più comune tra le sindrome dolorose, l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella graduatoria delle patologie disabilitanti pone la cefalea al diciannovesimo posto, al pare di altre quali la cecità, la psicosi e la tetraplegia. In Italia, secondo un'indagine dell'Istat, la cefalea omicrania ricorrente tra le patologie croniche con maggiore incidenza, colpisce circa 10 milioni di italiani in modo episodico, 2 milioni in modo cronico, con valori più elevati per le donne rispetto agli uomini. Indubbiamente l'emicrania in generale è un problema di genere, colpisce più il senso femminile, ma indubbiamente all'interno di questa ampia percentuale dell'oporazione generale, parliamo del 9-10% della gente che gira per strada, c'è una quota di questi, circa l'1% della popolazione generale, che poi trasforma questo emicranio in un dolore cronico che diventa di grandissima disabilità e che necessita di atteggiamenti terapeutici specifici. La cefalea è uno dei disordini più dispendiosi. Il valore associato alla perdita di produttività per tutte le tipologie di cefalee si calcoli sia addirittura superiore alla spesa sanitaria sostenuta da ogni paese. Molto spesso è una malattia primaria che avvolge i cittadini quando meno se l'aspettano, li rende meno abili alla professione, al lavoro che fanno e con situazioni anche familiari da gestire. Su questo bisogna migliorare le cose. Noi abbiamo fatto un'ottima legge, la legge antidolore, stiamo sviluppando dei protocolli, ma ci vuole assolutamente un'omogeneità di diagnosi precoce a livello nazionale, trattamento appropriato, molto spesso la cefalea viene proprio perché i trattamenti sono sbagliati, infine interventi sociali che diano a queste persone un po' più deboli delle altre di lavorare e di vivere nel rispetto dell'articolo 32 della nostra Costituzione. La fase 2 della crisi taglia i redditi familiari. Dal 2002 ad oggi salari medi e annui sono calati di circa 1.500 euro pro capite, al contrario dei prezzi del mercato che dopo la caduta libera del primo bienio di crisi nel 2012 hanno avuto un rincaro del 3%. Una volta gli italiani avevano la reputazione di grandi risparmiatori, ma oggi la crisi fa spendere fino all'ultimo centesimo dello stipendio, se ne mette in cassaforte meno del 9%. Più che un bilancio, gli italiani chiudono, come dice il titolo del convegno di centromarche e famiglia cristiana, svolto sia a Milano, uno sbilancio. E così la congiuntura economica spinge le famiglie sempre più vicine alla soglia di povertà, con delle differenze al sud e a rischio una famiglia su 4, al centro il 6%, al nord il 5%. A contribuire a svuotare le tasche degli italiani sostengono i promotori del convegno anche il governo. La pressione fiscale nel 2012 tocca il 45% del reddito, mentre nel 2005 era del 40%. A questo si aggiunge il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, l'aumento delle accise per il carburante, l'imposta sulla casa e taglia le pensioni. La lente per leggere la crisi delle famiglie e il lavoro, o meglio l'assenza di lavori disoccupati, poco più di 1,4 milioni nel 2007, oggi sono quasi 3 milioni. Donne inglesi e americane vendono il latte materno sul web. Le prime al prezzo di una sterlina, circa 1,20 euro per 30 grammi. Le seconde, la stessa quantità, la fanno pagare 2 dollari, 1,50 euro. Le donatrici utilizzano i forum e le comunità virtuali come Facebook per cercare possibili clienti. L'acquisto di latte materno sul web, descritto dalla stampa inglese, è una forte tentazione, soprattutto per i genitori meno fortunati rispetto a chi ne ha in abbondanza, perché questa sostanza fornisce ai bambini una migliore protezione contro le malattie e le allergie rispetto ai più costosi prodotti artificiali. Ma i pediatri inglesi lanciano l'allarme sui rischi di questa pratica. Le donatrici possono prendere farmaci, droghe o avere malattie infettive come l'ADS o l'epatite, e chi acquista non lo sa. Ma per le mamme che non possono allattare, ricordano i pediatri, è meglio rivolgersi alle banche ufficiali del latte materno, più sicure rispetto all'acquisto online. La sindrome d'agli in azione parentale è la patologia da separazione per eccellenza, un disturbo psichiatrico e non solo psicologico. Insorge tipicamente nei figli a seguito del loro piano coinvolgimento in separazioni conflittuali tra i genitori, non appropriatamente mediate, il cui minore non è sufficientemente tutelato dagli specialisti, dai servizi sociali e dagli organi giudiziari. Teorizzata dallo psichiatra statunitense Richard Gardner, sulla sua validità la comunità scientifica mondiale ha dibattuto per anni. Nel nostro paese soltanto recentemente è entrata nel panorama delle psicopatologie. La sindrome d'agli in azione parentale è caratterizzata dal rifiuto del bambino, alimentato dall'influenza di uno dei due genitori, nei confronti dell'altro. Si parla appunto di bambini programmati o che subiscono un lavaggio del cervello. Come ogni tipo di disturbo, anche questa sindrome può avere diversi livelli di gravità, il trattamento sarà dunque diverso a seconda dell'entità del disagio. Senza dubbio l'intervento terapeutico deve essere di tipo multifocale, diretto all'intero sistema familiare, al bambino, al genitore alienante e a quello alienato. I bambini più a rischio di sviluppare disordini alimentari, in media hanno un quoziente intellettivo maggiore e una migliore memoria, ma anche un controllo dell'attenzione minore rispetto agli altri. Lo ha scoperto uno studio dello University College di Londra, pubblicato dalla rivista Sciological Medicine. I ricercatori hanno usato i dati di 6200 bambini che avevano partecipato a uno studio negli anni 90, in cui era stato misurato il loro quoziente intellettivo a 8 anni e la loro memoria lavorativa, la capacità cioè di trattenere le informazioni utili in un processo tralasciando quelle rilevanti a 10. I bambini con un parente stretto con l'anoressia hanno mostrato una migliore memoria e un quoziente intellettivo più alto, mentre quelli con parenti stretti bulimici hanno dimostrato una minore funzionalità visiva e spaziale.